È ora di iniziare a preparare il cibo in maniera più veloce con il nuovissimo Twist & Cutter di Genius. È una piattaforma tutto in uno per la preparazione del cibo che taglia, trita, fetta, sminuzza, frulla, frusta, mescola e tanto altro. Tutto in un battito di ciglia e tutto senza cavi o elettricità. Grazie al sistema tutto in uno nella preparazione dei cibi e alla qualità del marchio Twist & Cutter di Genius. Il set Twist & Cutter include il piatto base, il contenitore richiudibile e rimovibile e i piedini a ventosa che lo renderanno fermo e sicuro sul tuo ripiano. Avrai anche il coperchio con lame a sciabola in acciaio inox, ideali per tritare verdure, spezie e perfino il ghiaccio e i frutti congelati. Sarà tuo anche il coperchio salva freschezza per mantenere fresche le pietanze e gustarle in un secondo momento. E poi la spatola Genius che è perfetta per mescolare e versare cibi e salse. Il set da 6 pezzi Twist & Cutter sarà tuo a questo incredibile prezzo. Chiama adesso e includeremo anche il coperchio per affettare con il comodissimo salvamani. Gratis! Non è abbastanza? Lo speciale accessorio per impasti di Genius con ben 6 fruste, perfette per montare a crema in pochi secondi. C'è perfino un separatore di uova per rendere l'aggiunta degli ingredienti più facile che mai. Avrai tutto! Il piatto base con i piedini a ventosa, il contenitore per mescolare, il coperchio salva freschezza, le lame in acciaio inox per sminuzzare, la spatola, la fettatrice col salvamani e l'accessorio a 6 fruste per montare e il separatore per le uova. Chiama ora per informazioni!